L'inaugurazione e l'apertura della Casa Museo dedicata a Filippo Corridone. Un benvenuto dalla città di Corridone e rivolto a tutti i presenti per questa celebrazione. Ma io sono appagato dall'amicizia che nutrono i miei compagni e tutti gli operai che hanno imparato ad apprezzarmi e conoscermi nelle difficili battaglie in cui mi vedono loro condottiero e soprattutto fratello, fratello d'armi.